Vogliamo dire che il 12 dicembre incominciamo le nostre trasmissioni televisive a Ciao TV dalle 22.30 a mezzanotte con Mary Fabricino, Mario Landi e si aggiungerà a noi un altro artista Alfredo Uppe. Allora vi lascio questa bella canzone. Io ti lascio. Tu mi lasci Mary? Sì, me ne vado. Però devi stare là perché questa è una bellissima canzone, molto bella, dedicata agli innamorati. La preghiera per lei, che tutti gli amori possano ritornare nel vero cuore. Mario Landi. Grazie, Mary. Vai. Da qualsiasi persona voglia dedicare anche il bar Eden. Grazie ragazzi, siete stati stupendi. Questa canzone è dedicata anche per voi. Abbiamo scaricato bene, facciamo questa qua, dai. Vabbè, facciamo questa qua, la versione vecchia. La versione vecchia, abbiamo sbagliato base. Vabbè, non fa lì. La versione vecchia, abbiamo sbagliato base. La versione vecchia, abbiamo sbagliato base. La versione vecchia, abbiamo sbagliato base. Questa canzone di tutta qui sul nostro fixino e normale. La versione vecchia, abbiamo phone comepo? saprà, si ascolterà, pregherà, volerà verso il mare, alle stelle del cielo e al cuore di lei, è il re che già fosse tornata, ma se stringo le braccia, sono più podre che mai, lei non lo sa, che per me c'è stato negli, nei occhi miei, c'è sopra e se ne va, lei non lo sa, che per me c'è stato negli, nei occhi miei, c'è stato negli, c'è stato negli, nei occhi miei, c'è stato negli, nei occhi miei, c'è stato negli, pregherà